Si è concluso con l'approvazione all'unanimità di una sola mozione su 5 all'ordine del giorno, il Consiglio Comunale Sant'Agatese dello scorso 21 maggio, a passare la proposta relativa alla stabilizzazione dei precari con la quali i consiglieri di minoranza hanno chiesto all'amministrazione di impegnarsi al fine di portare a conclusione tutte le procedure relative all'iter di contrattualizzazione a tempo indeterminato, prestando anche un occhio di riguardo ai lavoratori ASU. In particolare nella proposta si è fatto riferimento all'interlocuzione avviata dal comune con la Commissione Ministeriale sulla stabilità finanziaria degli enti locali per sciogliere il nodo sul numero dei dipendenti da stabilizzare. Per tutti gli altri argomenti, emergenza sulla liquidità di cassa, trasferimento del mercato settimanale alla sede originale del lungomare, lavori di completamento del porto e la questione relativa all'immobile ex omni che dovrebbe essere destinato a nuova sede del commissariato di polizia, è arrivato il nodo del civico consesso. Argomentazioni a sostegno delle bocciature palesemente pretestuose, sterili e sin troppo scontate, hanno commentato i consiglieri Sottile, Recupero, Starvaggi, Puleo e Brancatelli, che hanno stigmatizzato l'assenza del sindaco in aula e poi, riferendosi al dibattito con la maggioranza, l'hanno definita chiusa al dialogo, ostile e per certi versi rancorosa. Mozioni superate, prive di fondamento perché decadute nei contenuti, replica il sindaco Bruno Mancuso. Per quanto riguarda la mia assenza è stata determinata da impegni personali e politico-istituzionali precedentemente assunti.